Sara è stato un personaggio molto importante per me, è stato difficile affrontarla e lì mi sono ispirata un po' alla forza che hanno le donne e di lei mi piace questo, mi piace la coerenza, mi piace che è una che sta con i piedi per terra, che sa esattamente quello che vuole e da lì la vita ti può portare a perdersi un attimo, però lei è una risolta, lei è una che sa ed è un tipo di donna che poi nei momenti difficili è quella che prende una decisione e anche non ha paura di prendere decisioni, questa è un'altra cosa che mi ha affascinato di questo personaggio, interpretarlo non è stato facile, quello che sicuramente mi ha aiutato è il mondo che mi era molto chiaro, il mondo di Luciano, perché poter lavorare su una base musicale, che non è solo la musica, sono soprattutto le parole, insomma su una base dove tu sai qual è il mondo suo, quindi arrivare sul set, ancora prima di arrivare, non sapevo che cosa avrei fatto io all'interno di questa cosa, non sapevo neanche se andavo bene per questo personaggio, la cosa mi ha messo un po' in crisi, però quello che mi era veramente chiaro è in che mondo stavo, e questo è già una buona parte.